La Torino di Pier Giorgio Frassati non era ancora consapevole di essere una città dei santi sociali, d'altronde vennero portati alle altari figure enormi di spicco come Don Bosco e il Cottolengo quando Pier Giorgio era già mancato a fine anni 20, primi anni 30, però si respirava quel clima e soprattutto una certa borghesia benestante, pensiamo all'esperienza di Giulia di Barolo, era da sempre stata sensibile e attenta alle persone più povere, magari anche essendo anticlericale in qualche modo, però c'era questa attenzione alle persone più disagiate, d'altronde Torino ebbe in quegli anni uno sviluppo straordinario con molte persone che si avvicinavano per la grande fabbrica, c'era il passaggio davvero a quella che sarebbe poi stata la città fordista, come la definiscono gli economisti, la città che si costruisce intorno alla grande industria, One Company Town.